Io non capisco qual è la violazione dei diritti, si sta consumando più una violazione dei diritti Massimo Converso ha detto questa mattina che sono stati violati i diritti perché ci ha avuto atteggiamenti aggressivi e violenti da parte delle forze dell'ordine, Clemente stava con Il testimone è andato là e ha detto guardate dovete andare via da qua, non hai usato di manca, ha fatto un cazzo ma non ho capito io Ma che cazzo è il sistema ragazzi? Come se permette a gente di parlare peraltro quando non c'era nemmeno? Ti passevo un verso questa mattina qui non c'era